Promesse tante, fatti pochi, dal governo del cambiamento al governo del cambianiente. Giornata nazionale di mobilitazione del sindacato di polizia di Stato e di polizia penitenziaria della CGL che lamenta il mancato rinnovo del contratto di lavoro. Assondrio presidio davanti alla prefettura. È scaduto il contratto, ci sarà un automatismo forse di 6 euro, lordi, mensili. Assunzioni nuove si assumono, però non copre il turnover. C'è chi va in pensione, comunque è sempre superiore ai nuovi assunti. Questo comporta una diminuzione in generale del numero di poliziotti presenti sul territorio nazionale e soprattutto una polizia che invecchia. L'età media del poliziotto è circa 46-47 anni, è un'età molto elevata per il settore nostro. Serve gente fresca, giovane, soprattutto sulla strada, per una maggiore prevenzione. Più prevenzione, più sicurezza, dice il SILP CGL, che reclama piena dignità per gli operatori di polizia a partire da rinnovo contrattuale, nuove assunzioni e aggiornamento della dotazione di mezzi ed equipaggiamenti. Soprattutto in questo periodo qua, dove c'è un allarmismo crescente sul piano terrorismo, sul piano profughi, sul piano in generale di tutto. In provincia di Sondrio la situazione appare meno preoccupante. La fortuna della Valtellina è che rispetto a altri posti in Italia, la percentuale di polizia rispetto alla popolazione è più alta rispetto a altri posti. Questo comporta una miglior prevenzione, appunto. Una miglior prevenzione, la Valtellina è un'isola pacifica, non perché manca il delinquente, ma perché c'è molta prevenzione. La prevenzione fa sì che la delinquenza faccia fatica a tecchire.